Come andiamo? Eh, sono molto ricci, sennò Jacopo facciamo una bella divisa nel mezzo, un po' dynasty, le piace l'idea? Sì, pure il conciuffone un po' enigmatico. Non mi sono belli anche un po' mossi, non proprio il riccio, eh? Il riccio Marcella Bella, direi più, più mossi, più naturali. Forse li tirerei, una cuda, uno chignon, che dice Jacopo? Secondo me uno chignone è simpatico, un po' bellissimo. Perciò, guardi, guardi.